Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi andremo a preparare un piatto unico. Sto parlando della zuppa di pesce. Mettiamoci immediatamente ai fornelli. Esistono molte versioni della zuppa di pesce. Io oggi vi farò vedere la mia e anche la mia può variare dal pesce che trovo fresco la mattina quando decido di farla. Oggi per la mia zuppa ho preso dei polipetti molto piccoli, delle seppioline, logicamente il pesce per questioni di tempo l'ho già pulito, ho trovato dei bellissimi gamberoni, una manciata di cozze, non ho per esempio trovato le vongole perché a me piacciono le vongole veraci nella zuppa di pesce, stamattina non le ho trovate quindi qui tra i miei ingredienti non le vedete. Poi ho preso dei merluzzetti, li ho già decapitati e puliti, ho preso le triglie, la triglia è un pesce spinoso ma che non può mancare nella zuppa perché dà molto sapore, ho preso della gallinella e della coda di rospo. Poi gli scarti del pesce che ho pulito ho realizzato un fumetto di pesce e l'ho filtrato. Praticamente ho preparato una mire qua di sedano, carota, cipolla, ho fatto profumare questi odori con gli scarti del pesce, ho aggiunto un mezzo bicchiere di vino bianco, ho coperto di acqua, ho lasciato bollire per una trentina di minuti e poi ho filtrato il tutto. Questo liquido che è già molto profumato di pesce ci aiuterà appunto nella preparazione della zuppa. Qui in un tegame grande vedete abbondante olio extravergine di oliva e proprio questo tegame lo portiamo immediatamente sul gas. Mentre l'olio si scalda mettiamo immediatamente il porro. Allora nella zuppa di pesce di solito non va all'aglio però c'è chi lo mette, si usa invece la cipolla. Io vado a utilizzare il porro. Mettiamo il porro all'interno dell'olio e lo lasciamo sudare un attimino. Che cosa vuol dire sudare? Vuol dire che si deve scaldare, deve profumare l'olio ma non deve friggere. Non ho elencato gli altri ingredienti della zuppa ma sono quelli normali, olio, sale, pepe. Ha scelta un pizzico di peperoncino, prezzemolo che non può mancare e passata di pomodoro. Ora come l'olio comincia a emanare il profumo del porro noi andremo a mettere immediatamente i polipetti e le seppioline perché nel caso della mia zuppa sono i pesci più consistenti che ho quindi hanno bisogno di una maggior cottura. Quello che è importante nella zuppa è differenziare le cotture, quindi aggiungere mano a mano il pesce in base alla propria morbidezza. Seppioline e polipetti sono i pesci più consistenti quindi li mettiamo per primi. Possiamo iniziare già a metterli. Mettiamo le seppioline. Vedete io sono talmente piccoline che le lascio così intere. la stessa cosa ai polipetti. Mi raccomando quando puliamo i polipetti togliamo qui al centro il rostro, quello che trovate, quella specie di occhio nero che è qui all'interno. Vi lascio ossupare per 4-5 minuti. Poi vado a fare un'operazione molto importante. Non aggiungerò vino alla preparazione della zuppa. Con mezzo bicchiere di vino ho sfumato soltanto gli scarti del pesce per preparare il sfumetto. Ma nella vera e propria preparazione della zuppa, quindi qui in questa fase, io andrò a sfumare con un paio di cucchiai di aceto. Vedete come arriva il calore, i pentateli che addicciano subito. Noi adesso andiamo a mettere così due cucchiai di aceto. Lasciamo appena appena un minuto e possiamo aggiungere la cassata di pomodoro. Aggiungiamo la cassata di pomodoro. Giriamo tutto e andiamo ad aggiustare di sale e di pepe. Ora, prima di aggiungere gradualmente gli altri tipi di pesce, lasciamo cuocere il pomodoro. insieme a polipetti e seppioline. Quindi abbasso leggermente la fiamma, appena appena, aggiungo un mestolo così di fumetto di pesce e lascio andare per 7-8 minuti. Ora è arrivato il momento di aggiungere i bell'unzi. Sono abbastanza grandi, quindi li mettiamo per primi. e a seguire metto le trigliette intere. Una cosa molto importante, non facciamole rompere. La triglia dà molto sapore alla zuppa di pesce, però tutti voi sapete che sono molto molto spinose, quindi evitiamo di farle rompere. Ora mettiamo una bella manciata di prezzemolo. e lasciamo cuocere. Adesso andrò a chiudere con un coperchio, aggiungo un altro mestolino di fumetto e lascio cuocere per una decina di minuti. Dopodiché andremo ad aggiungere i filetti già puliti, i gamberoni e le cozze. Io le cozze le metto alla fine perché sono veramente una manciata, saranno 6-7 cozze. Se voi ne volete utilizzare di più invece, dovrete aprirle da parte, vi consiglio di aprirle da parte. Le mie sono poche poche, quindi le metto alla fine e si apriranno e rilasceranno alla zuppa quel tocco in più con la loro acqua. Vorrei che foste qui con me per sentire il profumo. Ora aggiungiamo. I filetti di gallinella, li adagio così da una parte. E i due filettoni di coda di rospo. Lasciamo ancora 5 minuti e da ultimo aggiungeremo gamberoni e cozze. Ora mettiamo i gamberoni. E da ultimo le cozze. Tra qualche minuto io, come le cozze si apriranno, andrò a togliere la metà del guscio. Noi siamo pronti. Come vi avevo detto, appena si sono aperte le cozze, ho tolto la metà del loro guscio. E poi volevo farvi vedere una cosa. Anche i filettini più piccoli, guardate questo, questo è uno dei filettini più piccoli che abbiamo messo all'interno. Vedete? Perfettamente integro. Quindi mi raccomando, dovete rispettare i tempi di cottura. Andiamo pure sul tavolo. Io ho appena finito di fare il piatto. Ho abbrustolito due fette di pane che ho preparato io. Questo è un pane casalingo preparato con farina zero e semola rimacinata. Sto mettendo qualche fogliolina intera questa volta. Vedete? In questo modo. Soltanto per il colore. Un'ultima macinata di pepe. E possiamo andare in tavola. Mi auguro che vi piacerà e che la rifarete in tanti. Se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti. Condividere le mie videoricette sui vostri social. E attivare la campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.